Cambio di guardia questa sera su R3 per la conduzione del talk show politico Ballarò, nato il 5 novembre 2002. Giovanni Floris, dopo ben 12 anni, cede infatti il posto a Massimo Giannini, che bisogna ammettere, eredita una pesante responsabilità. Ogni puntata ospiterà come sempre da 4 a 6 esponenti della politica, dell'imprenditoria e della società, contrapposti su vari temi di attualità. Ha deciso di montare forte questa sera Giannini, che ha riservato una ventina di minuti ad un'intervista al grande Roberto Benigni, che dovrebbe occupare un posto di richiamo all'interno della scaletta. Altro importante ospite della serata sarà Romano Prodi, che fotograferà la situazione del nostro paese in una fase che non riesce proprio a lasciarsi alle spalle il processo di recessione. Saranno inoltre sempre presenti sondaggi tanto cari a Floris, curati dall'euro media di Alessandra Grisleri. Nel frattempo e in contemporanea, Floris cercherà di portare più in alto la 7 con il suo programma di martedì, con il quale è pronto a inaugurare la sua stagione. Forte della presenza di Crozza, che ha voluto seguirlo, Floris ha così commentato la nuova conduzione di Ballarò. Passare il Presidente Simone, un giornalista così autorevole per E3, mi ne orgoglisce. Vuol dire che in questi anni siamo riusciti a costruire una trasmissione importante. E allora attendiamo tutti impazienti che la sfida abbia inizio.